Parlando con i miei allievi e con le persone che incontro nel mio lavoro, ma anche guardando la realtà che ci circonda e soprattutto negli ultimi mesi, mi rendo conto che il sentimento dell'anima più presente in questo momento è quello della lotta. Lotti per essere più grande, più forte, per far valere la tua visione su quella degli altri, lotti per essere riconosciuto, riconosciuto nella società, nel lavoro e persino nei tuoi rapporti affettivi più intimi. Per non parlare del mondo medico-scientifico, dal quale peraltro io provengo, che lotta contro la malattia, contro i tumori, contro l'inquinamento, contro il fumo, eccetera. Ovviamente non voglio dire che tutto questo non vada bene o che addirittura a volte sia proprio necessario, semplicemente vorrei portare il discorso su un altro piano. In questi giorni ho ripensato a Gandhi e a quello che ha ottenuto in India, cioè l'indipendenza dal colonialismo inglese e lo ha fatto attraverso una lotta pacifica, una non violenza, attraverso la resilienza e soprattutto guardando sempre nella direzione della libertà e non contro gli inglesi. E poi ho portato questi pensieri a quello che mi sta più a cuore, cioè la tua salute, la nostra salute e la biodinamica craniosacrale. Ecco, la biodinamica craniosacrale non lotta contro qualcosa che sia esso un disagio, la malattia, lo stress o qualsiasi altra cosa, ma agisce a sostegno del benessere, della vitalità e della salute. Ogni essere umano è un essere complesso, è un'unità inscindibile tra corpo, mente e realtà che lo circonda, ma soprattutto tra ciò che è percepibile il corpo fisico e un'organizzazione più profonda, sottile, energetica, che rappresenta il nostro vero cuore profondo dove risiede il nostro vero potenziale di autoguarigione e le nostre risorse di autoguarigione. Bene, attraverso la biodinamica craniosacrale impari ad andare proprio verso questo cuore e lo si fa delicatamente senza creare turbamento, ma al contrario creando spazio e accoglienza interiori perché si possa esprimere proprio nella qualità della quiete, noi la chiamiamo quiete e rilassamento profondo, tutto il suo potere di riportare equilibrio e favorire l'autoregolazione. In definitiva di generare la salute. Ecco perché nei nostri corsi non si impara la lotta ma l'interazione, l'accoglienza e l'ascolto. Se ti è piaciuto il contenuto di questo video lasciami un gentile feedback e se hai bisogno di chiarimenti non esitare a contattarmi con la form che trovi qui sotto. Nel frattempo ti saluto alla prossima. Ciao!